Sono in tavola, gli spaghetti col tonno? No, Ugo. È tutto il giorno che ci penso. Aspetta, Ugo, aspetta. Ma non ti ricordi che giorno è oggi? Che giorno è? No! Si trattava della terrificante riunione di condominio bimestrale che si svolgeva a turno nelle case di pari. Che fai la visione di condominio? Oh! 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 Che giorno che una seruta! Arrivederci la brasa. Arrivederci la brasa. Arrivederci.